100 ore di lavoro a settimana, scadenze folli e azzeramento delle relazioni e della vita sociale al di fuori dell'ambiente di lavoro. Questa è la notizia di cui non si fa altro che parlare in questi ultimi giorni, ma se vi posso dire subito la mia opinione è che questo tipo di notizie non mi sconvolgono per nulla, perché purtroppo queste cose sono sempre successe a chi lavora nel contesto economico-finanziario. Ciao a tutti e bentornati su questo canale, dove vi ricordo che cercheremo di approfondire insieme tematiche relative alla finanza personale, agli investimenti, ma anche al mondo del lavoro, affinché le mie esperienze possono essere utili per studenti oppure giovani lavoratori che non necessariamente conoscono tutte le dinamiche nelle varie società, oppure per coloro che sono comunque interessati a capire come si svolge il lavoro nel day-to-day quotidiano all'interno delle migliori e più grandi società di consulenza o banche a Milano. Ne stanno parlando tutti in questi giorni e la notizia è stata rimbalzata nelle sezioni di economia e finanzia di vari quotidiani online. Ma che cosa è successo e perché si è arrivati a tutto questo? Vediamolo quindi insieme. Un gruppo di analisti di Goldman Sachs, quella che è ritenuta la banca più potente prestigiosa del mondo, hanno denunciato di fatto i ritmi e le condizioni di lavoro e di pressione alle quali sono sottoposti ogni giorno. La verità è che ogni due o tre anni esce una notizia di questo tipo. Fa grande clamore all'inizio, le banche magari si adattano con nuove policy in modo tale da dare un'immagine di se stessi migliore, ma vi assicuro che dopo alcune settimane tutto torna come era prima. Che cosa hanno detto quindi questo gruppo di giovani lavoratori? Lo vediamo proiettato in questa slide. Essenzialmente hanno risposto ad un sondaggio interno della banca stessa nel quale hanno affermato che nell'ultima settimana hanno lavorato per 105 ore, quindi più del doppio rispetto a una persona normale, e che in media alla settimana lavorano 95 ore. Andando a letto alle 3 del mattino, questo significa che escono molto probabilmente dall'ufficio alle 2-2.30, e dormono solamente 5 ore a settimana, essendo nuovamente alle 9 della mattina stessa di nuovo in ufficio. Purtroppo il mondo dell'investment banking e delle banche d'affari, ma il discorso potrebbe essere anche steso alle migliori società di consulenza, così come ai più grandi e prestigiosi studi di avvocati che lavorano all'interno del contesto economico-finanziario, è sempre stato questo, e sempre sarà questo. A dire la verità, io pensavo che cambiasse, pensavo che la pandemia, infatti due anni di smart working, potessero aver cambiato, in parte almeno, il pensiero delle persone che vivono quotidianamente in questo ambiente. Credevo infatti che in questi mesi le persone potessero aver riscoperto anche l'importanza di altre attività o altre relazioni al di fuori del mondo del lavoro, come la famiglia, oppure gli amici che non si vedono da vari mesi, oppure la semplice passione per alcuni hobby, attività extra lavorative. Ma la verità è che parlando nelle ultime settimane con gli amici che sono a Londra e lavorano in queste grandi banche d'affari, quello che mi stanno raccontando è che la loro situazione lavorativa è peggiorata con lo smart working e tutti non fanno altro che sperare di tornare in ufficio il prima possibile. Questo perché? Perché rimanendo a casa finiscono per essere sempre reperibili e con la scusa che non si può uscire, non si possono fare altre attività, finiscono per essere sottoposti alle cariche di lavoro ancora più massacranti di quelli che abbiamo visto in precedenza. Vi faccio infatti notare quello che hanno ulteriormente affermato i giovani analisti di Goldman Sachs nel sondaggio a cui sono stati sottoposti. Il 75% di loro si sente schiavo del lavoro e ha bisogno di un supporto psicologico. Fermatevi un attimo, voglio farvi una riflessione su questo punto. I ragazzi che sono riusciti ad entrare nella banca più prestigiosa e potente del mondo non sono i primi quattro studenti presi dalla strada. Molto probabilmente erano gli studenti migliori dei loro porzi universitari, quindi già persone predisposte a raggiungere determinati obiettivi, ad andare incontro a scadenze, ad ottenere dei traguardi nella loro vita. Persone sicuramente intelligenti, molto più brave della media, in grado anche di sopportare carichi di lavoro superiori rispetto agli altri studenti stessi. Il 100% di loro poi afferma che le scadenze delle varie attività sono irreali e l'85% di loro afferma che ci sono troppi controlli da parte di quelle figure definite micromanager, quelle figure di mezzo che altro non fanno che ridurre l'autonomia, la responsabilità e la crescita delle persone più junior e sotto di loro. Quello che vi posso dire dal punto di vista personale è che nei primi anni di lavoro anche io mi sono ritrovato in una situazione simile. Onestamente non lavoravo per Goldman Sachs o per un'altra banca così prestigiosa, ma vi assicuro che per qualche settimana effettivamente le ore di lavoro si sono avvicinate molto ai numeri che abbiamo visto in precedenza. Nei primi due anni di questa esperienza lavorativa, quando uscivo al di fuori dell'orario lavorativo con amici o colleghi, quello di cui parlavamo sempre non era tanto il lavoro stesso, ma bensì il perché facevamo tutto quello, il perché eravamo sottoposti a quei ritmi di lavoro e quali erano i motivi che ci avrebbero spinto a continuare ad effettuare un'esperienza di questo tipo. Le risposte di base erano sempre più o meno le stesse. C'è chi lo faceva sperando di ottenere in futuro un miglioramento della propria carriera, un ruolo magari manageriale con una riduzione di ore lavorate ma con uno stipendio comunque elevato. C'era anche chi lo faceva perché si era ritrovato in questo contesto, non aveva un obiettivo di lungo periodo, semplicemente una volta finita l'università era entrato a lavorare in uno di questi ambienti e non aveva nella forza, nel coraggio di poterne uscire. Altri ancora invece lo facevano per uno stipendio elevato perché un aspetto comunque positivo da dire di tutta questa storia è che dietro a tutte queste esperienze in queste banche o studi di avvocati che operano nel contesto economico finanziario ci sono comunque degli stipendi elevati e soprattutto questo è vero al di fuori dell'Italia, a Francoforte e a Londra, ma anche a Milano stesso nelle più grandi banche ad affari internazionali si possono comunque ottenere degli stipendi che sono davvero elevati per i primi anni di lavoro. Pur assodato che questo tipo di esperienze lavorative ci sottopongono a dei ritmi davvero davvero elevati, dall'altro possiamo dire che non sono necessariamente negative. Abbiamo infatti compreso come gli stipendi sono comunque elevati e dall'altro lato vi posso assicurare che quelle esperienze dal mio punto di vista sono state le più formative dove non solo ho acquisito un bagaglio tecnico ma anche una serie di skills comportamentali all'interno del mondo del lavoro, come rapportarsi con clienti, come rapportarsi con colleghi, come efficientare il lavoro in team nel day to day quotidiano e sono sicuramente degli aspetti che mi porterò dietro per sempre, per il resto della mia vita, che mi torneranno comunque utili qualsiasi cosa faccia. Concludo quindi questo video con una serie di riflessioni. Quanto vale il nostro tempo e qual è lo stipendio che siamo disposti ad accettare adesso per un azzeramento della vita sociale e quali sono gli obiettivi di lungo periodo che ci portano in questo momento a dedicarci completamente al mondo del lavoro per avere sicuramente dei benefici in futuro, non solo all'interno del contesto economico finanziario, ma questa osservazione secondo me vale per tutti i lavori e per tutti i settori. Mi piacerebbe che contribuissero alla discussione persone che non vengono dal contesto economico finanziario e che magari prima di questo video non erano neppure a conoscenza dei ritmi a cui sono sottoposti i giovani ragazzi all'interno di queste società. Sareste disposti voi anche in cambio di uno stipendio elevato ad effettuare un'esperienza di questo tipo? Fatemi sapere che cosa ne pensate del rapporto quindi vita lavoro e se avete altre curiosità sulle mie esperienze lavorative o in generale del contesto dell'investment banking scrivetemi qua sotto nei commenti, cercherò di rispondervi a tutti e di portarvi dei preziosi consigli. Noi ci vediamo presto in un nuovo video.